La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Proviamo a ragionare un attimo per assurdo. Diciamo che non esiste alcuna correlazione tra le morti a cui stiamo assistendo in questi ultimi periodi di giovanissimi colpiti da infarti, da miocardite, da malori improvvisi. Tra poco avremo i dati del 2021 e davanti a questo innegabile aumento di morti improvvisi la scienza deve dare una spiegazione. Non può uscirsene dicendo semplicemente che non c'è correlazione con il vaccino, anche quando questi malori fatali sono stati registrati tra persone giovani e vaccinate. Una spiegazione alternativa la deve dare. Che cos'è l'inquinamento, il clima, il caldo? Che spiegazione dà la scienza davanti a questo numero sempre crescente di morti improvvise anche e soprattutto tra i più giovani? Allora, mi sta bene non creare allarmismo? Sono d'accordo che non bisogna puntare il dito per forza contro il vaccino, soprattutto non ritengo giusto farlo nei confronti di chi ha ceduto alla vaccinazione perché è spaventato dal martellamento dei media sulle possibili conseguenze del virus. Quindi chi ha fatto qualcosa per paura delle conseguenze del non non farlo non deve essere spaventato, non è giusto. Però se ci costringono a fare qualcosa in nome della scienza, la scienza deve dare una risposta quando viene registrato un fenomeno che non può essere considerato nella norma. E questa risposta non la devono pretendere quelli che erroneamente vengono definiti i Novax per giustificare la loro scelta. E da questa risposta non devono fuggire quelli che sempre erroneamente vengono definiti i Provax per paura di aver commesso un errore di valutazione. Questa risposta dobbiamo pretenderla tutti. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.